Siamo qui nella quarta giornata di Etna Comics con Sio, Simone Albriggi Tu sei, penso, la voce principale per fumetti su YouTube La tua voce la conoscono tutti Ti volevo chiedere innanzitutto da dove nasce il tuo nome? C'è un significato dietro del tutto casuale? Il nome Sio, intendi, proprio È sempre stato il mio soprannome dall'adolescenza in poi E quindi l'ho utilizzato poi anche come pen name perché era comodo Era breve Era breve ma diretto Ecco, qual è stato l'input che ti ha portato a creare contenuti su YouTube? Io volevo fare i fumetti Quindi ci ho provato in tutti i modi Ho detto, ah, posso provare a fare i fumetti animandoli Facendo la musica, facendo delle cose su YouTube forse E nel 2010 ho fatto Call Me Maybe tradotta con Google Translate Il giorno dopo aveva 100.000 visualizzazioni E ho detto, aspetta un attimo che ne faccio un altro E poi ne ho fatti tanti altri Ecco, questa tua passione per i fumetti Da dove nasce? C'è sempre stata? L'hai scoperta in qualche modo? Eh, Topolino Io ho iniziato a leggere con Topolino Letteralmente ho imparato a leggere su Topolino E ho detto, wow, che bello Voglio fare anche io i fumetti E niente, sono stato fortunato perché Ho sempre avuto questa luce che mi guidava Durante tutta la vita di obiettivo da raggiungere Ecco, un'altra tua passione penso che sia proprio il Giappone Come descriveresti questo tuo legame con questo paese? Eh, bello ma non ci vivrei Nel senso che ci ho vissuto circa tre anni E però Sono molto felice di essere tornato Perché è un paese bellissimo Si mangia da Dio Ci sono tantissime cose bellissime Ma si lavora troppo Ci sono interi piani Dedicati ai fumetti nelle librerie È un fumetto che vende tanto Là vende milioni di copie Però C'è anche tanta concorrenza Nel mondo del fumetto Quindi Magari qua avevo più speranze Di fare successo È Bello Sono contento di essere tornato Ecco, tu inoltre hai anche fatto Un libro sul Giappone, no? Eh, ho fatto un libro Si chiama Un Common Wheels È un tribro In realtà perché si può leggere In tre direzioni diverse Ci sono i fumetti C'è un racconto che ha scritto Nick E le foto di Nick Che è la persona con cui ho fatto Il giro del Giappone in bicicletta Da Punto più Sud A sud E al punto più a nord Abbiamo fatto 4062 km Faticosi immagino, no? Non particolarmente Andavamo con molta calma C'è un fumettista Alla quale ti sei ispirato Ti continui a ispirare? Silvia Ziche, Tito Faraci Ortolani Akira Toriyama Quello di Dottor Znamperale Calvin e Hobbes Quindi Bill Watterson Grazie mille Grazie a voi Ciao Iscrivetevi al canale È un canale? Anche è un canale Iscrivetevi Followate tutto Ciao